Lavori in corso al Cinema Centrale di Leffe, che cosa si sta realizzando? Da 4-5 anni a questa parte la struttura del Cinema Centrale di Leffe aveva bisogno di una manutenzione importante. La manutenzione riguardava l'impianto del riscaldamento. La Commissione del Cinema di Leffe ha chiesto alla Commissione Economica della Parrocchia, dato che la sala è parrocchiale, di poter cominciare questi lavori che da 4-5 anni ne avevano bisogno, sia a livello impiantistico che a livello normativo. Quindi è stato deciso, tramite con loro, di mettere un nuovo impianto, perché quello che purtroppo avevamo in casa era obsoleto. Come si è quindi arrivati a questo intervento? Innanzitutto la Commissione Economica ha dato i lavori a due ingegneri, per quanto riguarda la parte della planimetria che mancava del Cinema Centrale di Leffe, all'ingegnere Minio Emberti. Per quanto riguarda la parte termotecnica è stata data all'ingegnere Tranquillo Rossi. Hanno fatto tutte le rilevazioni del caso e dopodiché la Commissione Economica della Parrocchia di Leffe ha indetto una gara d'appalto con aziende termoidrauliche della Val Gandino. Dopo aver selezionato l'offerta più bassa è stata scelta l'idrotermica Leffe, nel quale ai primi inizi di giugno hanno cominciato i lavori di rifacimento della caldaia. Questi lavori sono stati molto importanti perché la caldaia che abbiamo installato prima andava ancora a gasolio, quindi c'è stata anche una bonifica del serbatoio del gasolio, la completa rimozione della vecchia caldaia e l'adeguamento di tutta la canalizzazione all'interno del cinema e del locale caldaia. Questi lavori sono purtroppo ancora in corso perché i tempi ci sono un po' portati, però stanno lavorando bene e vediamo che la nuova caldaia porterà nuovi frutti sia in termini di riscaldamento che in termini di risparmio. Oltre a queste cose ovviamente ci sono state altre piccole manutenzioni che si sono dovute adeguare, infatti anche l'impianto elettrico del locale caldaia è stato completamente rifatto. Durante gli scavi del serbatoio si è visto che un pezzo di trattafoniaria dei bagni pubblici avevano bisogno di manutenzione, quindi sono stati rifatti anche la retefoniaria dei bagni pubblici del cinema di Leppe. Tanti piccoli lavori che hanno portato anche a una spesa complessiva, non indifferente, ma il cinema centrale di Leppe insieme alla parrocchia di Leppe ci crede molto in questa sala parrocchiale. Quindi siamo molto contenti che la parrocchia abbia dato la possibilità al cinema di vivere ancora all'interno della comunità leffese. Altri piccoli lavori possiamo dire che ne avremo più avanti, infatti un'altra parte importante che dovremmo rifare sarà il completo rifacimento dell'impianto elettrico che anche qui sia a livello normativo che di sicurezza comincia ad essere obsoleto. Quindi nei prossimi mesi, anzi direi quasi anni, ci si dovrà impegnare a terminare anche questa parte per rendere la sala anch'esso più sicura.